CHIENE ENERGY BASTA Vabbè, famo qualche video mentre abbiamo qualche canzone Va bene, quale? Dai, famo... wherever you will go Però politman Fala con l'alfeggio, ma ti dico Sono... La minore è fine È una rispoglionita 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 Grazie a tutti Morgillo alla chitarra Parti alla telefonia Giulietti ha la voce Ciao Ciao